Buongiorno a tutti, mi chiamo Giovanni De Vecchi, sono store manager della pasticceria Cova, il sito a Milano, via Monta Napoleone 8. In occasione delle giorni particolari, apriremo le porte a tutti il 12, il 13 e il 14 ottobre per presentare a tutte le persone i nostri, diciamo così, segreti. In questa occasione vi introduco il nostro chef. Eccomi, sono Edoardo Gadda, sono l'executive pasticceria Cova, e sono lieto di potervi presentare e dimostrare le nostre creazioni per il Natale. Il tema sarà il panettone, come vedete, è il nostro punto di forza e sarò lieto di svelarvi alcuni segreti nella preparazione.